Millesimus è il software per la predisposizione ed il calcolo delle tabelle millesimali e dei regolamenti condominali aggiornato alla legge 220 del 2012. In questo video illustreremo il funzionamento del nuovo input grafico di Millesimus 3. Nel menu operazioni all'interno dei vani e delle unità immobiliare è presente il comando Importa vani da disegno con cui si può richiamare l'input grafico. Nella schermata che si apre bisogna selezionare una planimetria in formato DXF, Bitmap, JPEG o PDF che costituirà lo sfondo su cui andremo a rilevare i vani. Nella schermata sfondo dovremo indicare l'unità di misura del disegno originale. Nella colonna Importa layer possiamo indicare quali layer utilizzare per il nostro sfondo. In questo caso selezioniamo muri, scritte e scale. È possibile prendere anche solo una porzione del disegno da utilizzare come sfondo selezionando la parte interessata con il tasto destro del mouse e trascinando il puntatore. Posizioniamo il simbolo dell'orientamento necessario per permettere al programma il calcolo automatico del coefficiente di orientamento all'interno del nostro disegno ed andiamo a indicare il nord. Siamo entrati in modalità tracciamento tramite la quale indicheremo muri verso l'esterno, muri verso altri ambienti interni, unità, vani, scale, eccetera, tramezzature e infissi. Iniziamo tracciando lungo tutto il perimetro dell'unità i muri esterni. Continuando a tracciare il perimetro dell'unità andremo a indicare i muri verso altri ambienti come vani, scale e altre unità limitrofe. Procediamo ora a rilevare i vani che costituiscono le unità andando a tracciare le tramezzature con l'apposito pulsante. Dal menu associato al tasto destro del mouse o premendo F4 è possibile sempre ripetere l'ultimo comando utilizzato, in questo caso input tramezzatura. Prima di ultimare andiamo a tracciare le finestre. Per ogni singola finestra possiamo quindi indicarne l'altezza. Inserendo tutte le finestre verrà calcolata in automatico la superficie finestrata dei vari vani. In questo modo Millesmus 3 calcolerà in automatico il coefficiente di luminosità. Una volta terminato di rilevare tutti i vani e relative finestre è possibile premere il pulsante Esporta in Millesmus 3. Il software procede all'allevamento dei vani con relative superfici e superfici finestrate. Qui è possibile modificare la descrizione e l'altezza media dei vari vani. Una volta premuto OK tutti i vani verranno esportati in Millesmus 3. Sarà ora possibile vedere per ogni vano il coefficiente di orientamento attribuito. Nel caso un vano abbia più pareti esterne Millesmus calcolerà un coefficiente di orientamento medio proporzionale allo sviluppo di ciascuna parete. Infine si visualizzerà il fattore di luminosità calcolato per ogni vano necessario per l'attribuzione del coefficiente di luminosità. Millesmus 3 viene costantemente aggiornato e gli aggiornamenti sono scaricabili dal nostro sito internet www.johnetwork.it